Cari amici, il ministro dell'istituzione Fioramonti si sta segnalando per il suo implacabile attivismo. Aveva giurato da neanche tre minuti quando subito è andato a rilasciare un'intervista al Corriere della Sera in cui diceva di trovarsi in disaccordo con alcune misure scolastiche, ovviamente, prese dal governo precedente. Nel governo precedente il vice del ministro Bussetti era Fioramonti, quindi Fioramonti si diciocia dalle misure prese dal governo in cui Fioramonti era vice ministro, perfetto. Poi il ministro scatena una discussione infinita su un tema cruciale, tassare le merendine, lui ovviamente le vuole tassare. Tutti a dirgli un coro, ministro è una cazzata, ministro colpisce le tasche dei meno ricchi, ministro altrove l'hanno introdotta e poi se ne sono pentiti e l'hanno cancellata. Niente, Fioramonti tira dritto e per giustificare la cazzata ne dice un'altra. Cioè non a caso l'uomo più ricco d'Italia produce merendine a Ferrero della Nutella, iniziano a fischiare le orecchie. E molti fanno notare giustamente che invece di favorire chi produce in Italia come Ferrero, si paventa una bella misura che lo colpisce, così tanto per invitare chi produce in Italia a traslocare all'estero. Infine però il vero e proprio capolavoro è un altro. Venerdì 27, domani, le scuole scioperano per l'ambiente e contro l'inquinamento. Tutto bene, interviene il ministro che scrive nero su bianco una circolare ai presidi in cui li invita a giustificare le assenze degli scioperanti. Caso senza precedenti anche perché a detta di molti esperti, potete vedere i principali siti che si occupano appunto di questioni scolastiche, a detta di molti esperti, è una norma. Fioramonti introduce una norma molto 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 dubbia, tradotto è irregolare. Il ministro dell'istruzione avrebbe il dovere di riempire le aule e non di svuotarle. Se ritiene che l'ambientalismo sia trascurato a scuola, benissimo, gli dia l'adeguato risalto, lo faccia studiare tra i banchi, ha gli strumenti per farlo, può sensibilizzare i professori e anche ritoccare i programmi. Invece no, il ministro invita i ragazzi a uscire da scuola.